Un piccolo lori, primate lungo circa 25 centimetri e caratterizzato da due grandi occhioni che gli occupano buona parte del muso, ha fatto irruzione in un appartamento di Jibin, nel Sichuan, nel sud ovest della Cina, arrampicandosi sui mobili e rubando noccioline. Il simpatico intruso è stato trovato da signor Zheng Zhuobing nella sua casa al quinto piano di un condominio. Si deve essere intrufolato dalla finestra, non avevamo idea di cosa fosse, ha detto Zheng, che l'ha subito portato al Dipartimento Comunale Forestale per scoprire che animale fosse. Il primate in questione appartiene ad una specie protetta denominata lori lento, di cui esistono pochi esemplari che vivono in un'area ristretta della Cina. Sono creature lente nei movimenti ma molto abili nell'arrampicarsi sugli alberi. Ora l'animale è stato inviato ad uno zoo locale che se ne prenderà cura.